segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te momento c'è stato un messaggio nella notte nuovo proprio di Zelensky che diceva insomma constatava l'avvio dell'attacco finale un po' l'ultimo atto sul Donbass con Mariupol che ha una centralità strategica in questo momento e che continua a resistere con questi mille tra militari e però abbiamo scoperto abbiamo saputo da ieri anche civili che sono nascosti e rifugiati che combattono nelle acciaierie si ieri sera è cominciato cosiddetta seconda fase di questa questa guerra ma sembra che ancora siamo ai livelli delle operazioni tattiche per riprendere dei posizioni tra tattiche cioè non c'è una una guerra nel stile di blitzkrieg in nella parte orientale ma i russi stanno cercando di prendere appunto le posizioni un po tattiche ci sono sappiamo delle scadenze 1 nell'immediato 1 9 maggio nell'immediato è che domenica è la pasqua ortodossa sappiamo quanto la chiesa russa è coinvolta sia nella formulare insomma provvedere una parte un po' commissionistica questa questa invasione sappiamo patriarca chirie il quanto è stato coinvolto in formulare anche i ragioni o giustificazioni per questa guerra e sicuramente c'è qualche volontà di portare qualche risultato per domenica che potrebbe essere mariupol nella nei loro piani e poi ovviamente c'è il 9 maggio per quale ieri e gioco hanno cominciato a fare una sorta di prova per questa parata militare abbiamo visto questi caccia disegnare la z e v proprio insomma per festeggiare eventuale vittoria o quello che sarà dichiarata una vittoria sappiamo anche che insomma per per putin avendo tutta la mass media sotto controllo qualsiasi risultato in realtà può essere venduta come come una vittoria sentivo dei alcuni amici russi che c'è gira una nuova un barzelletta in russia e che dice in pratica che napoleone dice se io avessi avuto pravda il giornale russo potevo raccontare che ho vinto waterloo quindi un po questo dà il senso che poi non necessariamente gli obiettivi principali devono essere raggiunti ma ormai forse qualsiasi risultato può essere venduto come vittoria per 9 maggio questo però franco beckis sarebbe come dire che è